Italfodere è nella nuova sede di via Scavate Case Rosse 35 a Salerno, nei pressi del bowling di Ponte Cagnano. 089 40 62 28. Info chiocciola italfodere.it Quest'oggi l'unità di crisi della Campania ha comunicato i nuovi casi di contagio da Covid-19 su tutto il territorio regionale. Su 21.943 tamponi molecolari effettuati ne sono risultati positivi 1.986, di cui 1.346 sono riferiti a soggetti asintomatici e 640 sono invece quelli che presentano sintomi. Sono 33 gli ultimi deceduti registrati, ma i guariti sono 1.871. Sui 656 posti letto disponibili in terapia intensiva ne risultano occupati 137. E invece i posti letto di degenza occupati sono 1.462. In provincia di Salerno si segnalano 14 nuovi positivi a Cavare Tirreni, poi 38 a Salerno, 21 ad Angri, 20 a Nocera Inferiore, 16 a Battipaglia, 15 a Pagani, 14 anche a Nocera Superiore e a Vietri Sul Mare. Intanto continua la campagna di vaccinazione anti-Covid e per i cittadini cavesi si aggiunge la possibilità data dall'azienda universitaria e ospedaliera Ruggi d'Aragona di ricevere il vaccino anche all'ospedale San Leonardo di Salerno. Già avviate le convocazioni e il sindaco di Cava Vincenzo Servalli, attraverso una nota, ha ringraziato il direttore generale Vincenzo D'Amato. Nel frattempo, proprio stamattina, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha tenuto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, avente all'ordine del giorno proprio il rispetto delle ordinanze per il contenimento del contagio da Covid con l'entrata della campagna nella zona gialla. Hanno partecipato anche il vicepresidente della provincia di Salerno, i sindaci di Salerno, Battipaglia, Cava e Nocera Inferiore, i presidenti della Confcommercio e della Confesercenti di Salerno e i vertici provinciali delle forze di polizia. Le forze di polizia hanno ribadito il massimo impegno a collaborare con le polizie municipali per predisporre anche controlli mirati, soprattutto nelle fasce orarie, serali e notturne, e dal canto loro Confesercenti e Confcommercio hanno assicurato il massimo rigore nel rispettare i protocolli.